Cinque anticipi di venerdì, il resto degli incontri al sabato. Parte così la 41esima edizione della Serie A. Un concentrato di emozioni e tanta curiosità, se non fosse che sono passati 119 giorni dall'ultima partita del massimo campionato nostrano. Un'eternità. Ne sono successe di cose tra le top 16, futsal mercato, preseason e test match. Ora è arrivato il momento di capire come stanno veramente le cose. E' il giorno ufficiale dell'esordio della Sandro Abate, dopo una lunga preseason che si è conclusa con il memorial contro la fel di Eboli. La squadra di Piero Basile, questa sera ore 20.30, affronterà sui legni del pala del Mauro di Avellino l'Ecositi Gienzano. Quest'ultima che nelle scorse settimane ha annunciato l'arrivo di Riccardo Felipe da Silva, noto come Riccardinio. O magico non sarà della lista dei convocati della formazione laziale per la sfida di Avellino. Regolarmente nella lista, invece, il grande ex, André Fantesele. Il tecnico Piero Basile dovrà fare i conti con tre assenze per squalifica, Moabs, Harry e Lavrendi. Dopo la rivoluzione estiva, la Sandro Abate si prepara ad affrontare il campionato di Serie A, che si prospetta lungo, insidioso, ma soprattutto ricco di sorprese. Dopo la rivoluzione green, la squadra cara alla famiglia Abate vuole sparire le carte con il giusto mix tra giovani e veterani.